Stiamo relazionando col Ministero per accelerare le pratiche. E' telegrafica la prima risposta che dà l'assessore competente Silvio Giovine alla richiesta dei tassisti vicentini di avviare l'iniziativa Buoni Viaggio, un provvedimento del Governo contenuto nel decreto sostegni per rilenciare la ripresa del Paese. In altre province tipo Treviso e Padova sono già partiti, Verona e Venezia sono in dirittura e noi siamo ancora fermi. Ecco perché noi di Rete Veneta avevamo portato la loro segnalazione all'amministrazione comunale, convinti della bontà del provvedimento, utile non solo ai tassisti prostrati dalla crisi economica derivata dalla pandemia che ha più che dimezzato il loro fatturato anni. Per Vicenza in particolare quasi 200 mila euro di Buoni Viaggio, da dare alle persone diciamo in difficoltà, alle famiglie numerose, agli operatori sanitari e a tutti quelli diciamo che ne hanno diritto in base al regolamento. Questa delibera di Buoni è ancora ferma in comune e ci dispiace perché in questo momento che tanti anziani vanno a fare i vaccini potrebbero soffrire di uno sconto del 50% della corsa fino al massimo di 20 euro. Abbiamo avviato l'Iter col Ministero per ultimare le pratiche e a breve riusciremo a mettere a disposizione non solo quindi dei cittadini, ma in modo particolare ne trarranno beneficio evidentemente tassisti e NCC di questo strumento. Registriamo con favore l'impegno dell'assessore assunto ai nostri microfoni. Come di consueto però monitoreremo l'effettivo arrivo dei Buoni Viaggio nelle tasche dei vicentini assegnatari. Quindi non finisce qui ma continua. Grazie a tutti. 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 Grazie.